la lista del duemila e cinque Zuin della colletta Jedrejic Niero, Rosso, Advahov, Pellizzari e Daniele Pavan ultimo tempo ventisette e trentasette in acqua invece l'ultima al maschile 0-3, 0-4 e testa a testa nelle corsie centrali e Visentini a prendersi la vittoria è stato bronzo ai criteri primo qui a Montebelluna 24 e 77 tempo che gli consente di piazzarsi in quarta posizione